E' da più di un'ora che non si vedono abboccate, malgrado siano partiti con vehemenza, adesso aspettiamo solo un ripassaggio del branco e speriamo che ciò avvenga nei prossimi minuti o almeno più tardi, nel frattempo possiamo spiegare anche questo piccolo aggeggio che abbiamo ideato proprio per serra, è in pratica un avvisatore da boccata costituito da questa starlight che viene agganciato ad una pinzetta e la pinzetta poi trattiene la lenza madre del mulinello. Grazie a tutti. con una vitalità estrei o mai si può fare no ecco ancora un altro è abbastanza grosso il nostro amico marco che l'ha preso il nostro amico marco 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 il nostro amico marco